Presidente, un commento sulle relazioni del procuratore spedicato e del Presidente Simenon? Come al solito è stata assolutamente una relazione molto puntuale che ha evidenziato il grande lavoro che sta facendo la sezione inquirente della Corte dei Conti, un grande lavoro per il controllo ovviamente dei conti pubblici, della capacità, della competenza ma anche evidentemente della buona gestione dei conti pubblici, sono dei rilievi che sono stati fatti in modo molto puntuale da alcuni amministratori e funzionari pubblici, noi dobbiamo mantenere forte il controllo, larga la trasparenza e ovviamente ribadire ancora una volta la grande collaborazione che c'è fra istituzioni e la forte collaborazione che c'è tra l'amministrazione regionale e la Corte dei Conti, anche nella sede di controllo.